Occupate tutto lo spazio. Quando dico nove, è la corsa. E andremo a lavorare sulla caratterizzazione del personaggio. Che cosa è la caratterizzazione di un personaggio? Sono tutte le qualità osservabili di quel personaggio, oltre che le qualità udibili di quel personaggio. Questa bambina mi ha colpita perché stavamo chiacchierando in un laboratorio e mi ha detto che il mio colore preferito è il blu. E io gli ho detto perché mi sa di libertà. Mi sembra invece che tu abbia del materiale di partenza molto concreto. No, sì, ho scritto diverse cose, diverse scene per ogni cosa. In teatro noi abbiamo tante persone contemporaneamente che sono chiamate come interlocutori, diventano testimoni da un certo punto di vista. Allora lì si riattiva la funzione testimoniale del pubblico. No, 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 no. No, 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 no. Sì Grazie per la visione! Grazie!